E' stato sequestrato dai carabinieri questa mattina il poliambulatorio IGEA situato a Pesaro per aver fatto tamponi rapidi senza alcuna autorizzazione. Il centro non era stato autorizzato dall'area Vasta 1 a processare i tamponi, alcuni dei quali classificati come molecolari, ma che in realtà erano sempre tamponi di tipo rapido, fatti pagare 70-80 euro. Nessun laboratorio adibito a processare molecolari, infatti, aveva ricevuto i test del poliambulatorio in questione. Secondo i primi accertamenti, i referti venivano firmati da un'infermiera e, in caso di positività, la struttura non informava il Dipartimento di Prevenzione dell'Asur, ma demandava questo compito ai vari pazienti in contrasto con la normativa vigente. Si ipotizza il reato di truffa aggravata ed esercizio abusivo di una professione a carico della donna. In mattinata, il distretto di Pesaro dell'Asur area Vasta 1 ha poi chiesto ai medici di medicina generale se avessero mandato i loro pazienti in quella struttura per eseguire i test. L'appello è stato lanciato anche all'intera cittadinanza. In caso è possibile contattare l'Asur al numero in sovraimpressione.